Ciao, noi siamo il vostro segmento di separazione dal pranzo, io sono Gabriele Provinciali, lui Fabrizio Marini, ciao sono Gabriele, non programmo un Java da due anni, ciao Gabriele all'alcolisti anonimo. In realtà il discorso di oggi parte da quello che abbiamo presentato l'anno scorso per vedere le evoluzioni, questi sono i due handle Twitter, se vi è piaciuto sparate, se non vi è piaciuto tenetelo per voi, magari non condividete. Allora l'anno scorso noi abbiamo presentato un sistema di continuous delivery, continuous integration, tutto basato su cloud, quindi c'erano tre figure fondamentali che agivano su questo grosso dispositivo cloud ed era diviso in due perché la parte più a sinistra era probabilmente più dev, la parte più a destra era più ops, in realtà c'è una categoria che vede un po' tutto che è proprio quella dello sviluppatore, quindi lo sviluppatore essenzialmente vede tutti i quadrati che sono rappresentati nel diagramma, quindi il repository, quindi il git, il maven per tirar fuori gli archetipi, il build engine che è anche abbastanza dettagliato che ti fa vedere un sacco di cose, l'engine di deployment che essenzialmente collega i due mondi e poi delle parti di amministrazione e questa cosa ha fatto bene in realtà anche altre figure professionali che era la figura del revisore, quello che mette lo stampino di qualità sul codice che viene prodotto e il cliente che in realtà vede solo parte di questi moduli funzionali che stanno da qualche altra parte per avere la sensazione di quello che sta succedendo, quindi il cliente grande ha tanti sistemi integrator che lavorano all'interno dell'azienda e quindi voleva avere come dire una dashboard in tempo reale delle build di quello che sta succedendo, dello stato d'avanzamento del codice, probabilmente qualcosina anche del wiki e delle issue tracker, questo non è niente di speciale, ce l'hanno tutti più o meno. Quando invece si passa, come dire, all'aspetto microservizi, all'aspetto container, in realtà oggi il signor sviluppatore, Mr. D, a nostro punto di vista ha due scelte fondamentali. La prima è che si fa il proprio container e poi diciamo deve essere gestito in una pipe più o meno complessa e probabilmente si va anche a sovrapporre con quello che succede sui macro container che continuano a funzionare e ultimamente le evoluzioni dei macro container hanno i microservizi dentro, quindi i due mondi devono poter parlare, devono poter essere gestiti in maniera armonica. L'altro invece è il fatto di poter utilizzare sul back-end un'infrastruttura docker e non sapere che esiste, dare delle regole di scalabilità e vedere e testare subito le applicazioni. Sono due cose differenti, quindi qui probabilmente la pipe che vedrete sarà un po' più complicata, lì Fabrizio fa vedere in realtà diciamo da zero quello che significa fare un'app in javascript. In java? Non c'è il cascato su lui, javascript inizia a, sono questioni di, quindi un'applicazione in javascript e farla, come dire, delegarla, delegarla l'intelligenza direttamente sul back-end. Però qualche cosa javascript non ce la fai vedere oggi, no? Non se ne parla nemmeno. Magari anche no.js o qualcosina. Comunque, diciamo, nei primi 20 minuti, io spero anche meno perché vi la libro per il pranzo, vi metto la realtà aumentata perché dopo una certa età, diciamo, faremo vedere il bring your own container e anche con i delta rispetto a quello che il cliente aveva fatto con il dispositivo cloud, tanto il dispositivo cloud diciamo per fare continuous delivery, continuous delivery, ce l'avevano tutti, io ho visto anche quello della concorrenza, mi sembrava di vedere la mia demo, cioè è abbastanza simile, si parte dai clips, hai il tuo plugin, si sincronizza con il git, ti costruisci, come dire, una build più o meno particolarizzata con gli strumenti anche di testing, ci puoi mettere selenium, ci metti un sacco di roba. Lo colleghi alla parte di deployment, il deployment fa delle chiamate rest, fa il deploy e gestisce più o meno, come dire, il ciclo di vita, in modo tale che tutto questo non sia possibile utilizzarlo in produzione perché in produzione in realtà, diciamo, ci sono dei meccanismi di restrizione culturale molto più ampi rispetto a quello che succede sullo sviluppo. Cosa abbiamo introdotto in realtà rispetto ai quadrati che avete visto prima? La parte di sviluppo c'è però il cliente vuole l'IDE dello sviluppatore, quindi il Mac o il Windows o Linux, però potrebbe anche essere un cloud IDE perché alle volte questioni di compliance richiedono che sia un ambiente cappato, un ambiente tappato essenzialmente, quindi un'immagine su cloud che viene gestita remotamente in modo tale da non dare libertà o fantasia allo sviluppatore che vuole gestirla in locale. In ogni caso questa è una cosa che ci hanno chiesto e l'abbiamo implementata. La seconda è esattamente quel sistema che abbiamo visto dove ci sono i repository, c'è la parte di review e quindi c'è lo stampino, però per gestire in maniera contemporanea, per gestire in maniera adeguata la pipeline che va su un application server probabilmente detto, quindi con le applicazioni che devono essere gestite in un certo modo, rispetto a quanto devo fare con Docker, attraverso i webhook si appronta un meccanismo che abbiamo chiamato Docker Build Slave, che in realtà è Jenkins, che gestisce tutta la pila, costruisce l'immagine Docker e la mette in un repository e poi ovviamente appronta tutto quello che deve succedere nei cicli di test in modo da poter gestire lane di sviluppo parallelo. Molte istituzioni anche finanziarie e non ce ne hanno tre o quattro, quella giornaliera, quella settimanale, quella mensile e quella trimestrale e quindi dovevano essere rispettati i crismi delle applicazioni dinosauresche che abbiamo sempre in pancia e che rappresentiamo molto volentieri e le applicazioni in realtà dove si fa una singola cosa e probabilmente si tende a farla bene, quindi microservizi e container di carattere leggermente più tradizionali. Gli elementi di system test, magari farò vedere anche qualcosina, se mi rimane tempo, sono basati su cloud e in realtà derivano da un'acquisizione che è un'acquisizione secondo me intelligente che ha fatto l'azienda che mi onoro di rappresentare, perché ha preso una tecnologia che in realtà è stato fatto molto upfront engineering, però prima di poterlo posizionare sul mercato sarà fatta una grande survey tra dev e ops di 500 aziende, mettendoli insieme due bipedi completamente differenti nella stessa stanza e cercare di capire qual era l'orientamento. Si è scoperto anche che l'orientamento delle ops è molto VMware oriented. L'orientamento ovviamente dev cerca di essere leading edge perché è un'assicurazione sulla vita, già il microservizio è un'assicurazione sulla vita, mi rende sicuramente più partecipe, più coinvolto e al CV fa bene, quindi stimola l'economia, è una cosa buona. I system test in realtà hanno un'interfaccia che dovrebbe essere in teoria, gli elementi container che vivono nei system test dovrebbero avere un'interfaccia che tutti e due capiscono, quindi abbastanza kitematic per lo sviluppatore, però abbastanza VMware per la parte di operations. Quindi, questa evoluzione come vi presento proprio di corsa, diciamo il diagrammino, è fatta più o meno così, e cioè si è data la possibilità di avere il plugin per Eclipse, diciamo per avere la possibilità di utilizzare la workstation in locale o un ambiente cloud che vive su un compute, che può essere quello di Amazon, può essere il nostro, può essere qualsiasi cosa che sia in qualche maniera certificata. Ovviamente il plugin fa il push sul git e da questo momento in poi entra in funzione il dispositivo di continuous delivery, continuous integration che è basato su cloud, quindi l'approvatore approva, però la cosa che ci ha fatto piacere è avere un sistema che possa anche uscire con un webhook e andarsi a interfacciare con altri sistemi. I webhook in realtà, diciamo, ci sono di diversi tipi, ci sono dei plugin per Jenkins, plugin per altri sistemi, oppure te li fai te, te li configuri e puoi direttamente sparare delle chiamate. Quindi notifica, approvazione, l'approvazione stimola un grilletto, un trigger per cui viene in qualche maniera invocato il maggior domo che fa un git clone dal git che vive comunque sull'ambiente diciamo di continuous delivery, continuous integration su cloud e viene costruita l'immagine docker che poi, come dire, viene ovviamente spinta verso il docker hub, il trigger che vedete tra Jenkins e questo signore qui che faremo vedere, quindi stack engine o container cloud service, serve per poter stimolare tutti i cicli di test necessari, quindi mettere sull'ambiente e probabilmente anche distruggerlo. La cosa buona è che anche se si tratta, come dire, di container ho la possibilità di, diciamo, di contestualizzare molti dei test anche non funzionali che ho da fare, quindi probabilmente molte delle cose funzionali vengono gestite in prima battuta. Le parti non funzionali, quindi le parti di bombardamento o di independent testing per una banca, quindi dove ci si mette in un ambiente anecoico e si bombarda col traffico registrato dalla produzione, consentono di poter metter su un qualcosa che sia relativamente largo, anche a livello di numero di worker nodes e di distruggerlo contestualmente. Per adesso, diciamo, si utilizza Docker Hub, diciamo, come repository privato, però l'azienda che rappresentiamo ha lanciato un registry che adesso è solo attivo negli States e in UK forse, e noi poveri latini non ce l'hanno ancora in beta, quindi quando saremo, diciamo, pronti per poterlo accedere, lo faremo senz'altro. Quindi questo è quello che ci interessava, diciamo, far vedere oggi. In realtà andava a ottemperare alcune regole interne all'azienda che erano quello che faceva lo sviluppatore, quello che faceva il gruppo che essenzialmente faceva code review, faceva gli approval, faceva i merge e tutta la parte di infrastruttura nuova in realtà che doveva convivere con container, come dire, di tipo tradizionale e invece architetture leggermente con una gran mobilità più fine. Il meccanismo che secondo me, a prescindere da quale sia il vostro sistema, non dovrebbe mai mancare per poter fare avanti e indietro tra on-prem e cloud e il webhook, quindi l'importante è programmarlo in una certa maniera, cercare una soluzione di qualsiasi tipo, da Amazon a Oracle, IBM, che abbia specifiche chiare, che sia facile da poter gestire non solo dal punto di vista dello sviluppo ma anche dal punto di vista dell'operations, perché non si sa mai. L'altra cosa è questo signore, che è una nave che ti viene incontro, non è il Titanic spero, però fa parte della famosa acquisizione Stack Engine che abbiamo preso nel 2015 e che non abbiamo distrutto stranamente, anzi funziona quasi meglio. Si vede che è un'acquisizione perché, come vedremo, la prima schermata sono tutti prodotti open source, c'è anche un MySQL, però diciamo di prodotti Oracle proprio non se non se ne parla. Quindi la prima cosa a vedere è boom, mongo, bene, cioè ci sta. Peraltro Stack Engine funziona sul compute, quindi su tutta la parte computazionale dell'Oracle Cloud, credo che sia anche attivabile a livello di sviluppo per lo sviluppatore singolo, è fatto in maniera semplice, basta registrarsi. Arrivato a prendere la mia realtà aumentata e vediamo se cerco di far saltare il cuore oltre l'ostacolo e mi colloco sul web che dovrebbe funzionare, ma che non avete da fare il distributo del DOS in questo momento su quell'indirizzo. Quindi non è un viewlet, però non si sa mai, è meglio non dirlo. L'interfaccia è spartana, cioè ho il numero di deployment, il numero di host su cui girano i container e ho i resource pools, quindi deve essere comprensibile sia alle componenti di sviluppo sia alle componenti di operations. Quindi quello che vedete dal momento in cui gestite i servizi e non so se riuscite a leggere, è Cassandra, Busybox, Apaci, Jenkins, Logstash e ce ne stanno degli altri, ovviamente, Mongo e mille altri. Molti di questi sono a scopo educativo, però servono anche per poter capire... C'è un allarme? C'è pericolo? No? Ho sentito un... Vado? A scopo educativo per poter capire come funziona, diciamo, la componente infrastrutturale. La cosa, a mio avviso, interessante è la possibilità di fare degli stack. Visto che comunque tutti quanti giocano con Docker, con il Compose, con YAML, dove si indenta proprio come bestie. Questo, in pratica, prende tutte e tre. Quindi, partendo da quello che già ho, diciamo, a livello di costruzione del mio stack sulla parte di sviluppo, lo posso tranquillamente importare nell'infrastruttura e fare in maniera tale che l'infrastruttura remota replichi esattamente quello che ho sulla wallstation dello sviluppatore, però dando dei pulsantini che sono comodi per le operations, tipo tu premi la parte run, oppure la parte terminate ti dà un undo, magari di qualche secondo, in modo tale che se hai premuto il spuzzante sbagliato puoi sempre tornare indietro. I deployments vi fa vedere essenzialmente, diciamo, quello che sta succedendo. Qua ho già deployato uno. I containers sono essenzialmente quello che ho a disposizione, che ho preso dal catalogo. Sugli stack, stacks, la parte carina è la parte dove mi consente essenzialmente di prendere dal catalogo o da un registri remoto delle componenti e vedere più o meno quello che c'è dentro, ripeto, dando soddisfazione a chi deve poter esercire il sistema, ma dando anche soddisfazione alla persona che dallo sviluppo deve poter magari fare qualcosa a vedere, diciamo, a che punto è quanto... E questo è più o meno, diciamo, il bonifico bancario che dovete riempire, diciamo, che è nato il cloud, è così, tutto quanto, la metafora è quella del bonifico, se non lo sai fare sei fuori. Quello che non si vede in questo momento, vabbè, diciamo che c'è la parte di builder che serve per poter automatizzare, come dire, il comportamento delle proprietà. La parte del docker run che mi serve per poterlo eseguire, lo YAML, che essenzialmente è la trasposizione di quello che ho già fatto a livello di workstation di sviluppo. Non so se posso fare un deployment, probabilmente no. Altra cosa interessante è quella dei resource pools. In genere all'ho con un certo numero di worker nodes e li, come dire, io sono stato transciano, ho fatto development and production. In realtà per le pipe, diciamo, del cliente, dove ci sono delle pipe parallele, io posso creare, diciamo, dei gruppi di risorse in modo tale da poter orchestrare meglio, come dire, quello che succede in un singolo gruppo, tirarlo su, fare dei test di metà automatizzata e poi distruggerlo contestualmente e quindi riusarlo. Questa cosa dovrebbe essere, questo attrezzo dovrebbe essere abbastanza aperto, perché ha il suo minimo d'orchestrazione dentro, però dovremmo essere in grado di supportare Kubernetes, diciamo, se l'azienda già ce l'ha e se, come dire, questo è desiderabile dal punto di vista dello sviluppatore e delle operations. Vado a passare la palla invece al dottor Marini, che vi farà vedere, diciamo, la parte di bring your own app. Quindi qui in realtà il discorso, come dire, il trucco è quello di ignorare che esista un'infrastruttura Docker, e digitalmente abbiamo staccato il video, ignorare che esista un'infrastruttura Docker e lasciare le regole di scalabilità direttamente al servizio cloud. Dottor Marini, il gelato? Pronto? Eccoci. Allora, ciao a tutti, per i prossimi 20 minuti speriamo di meno, cerchiamo di essere velocissimi, facciamo vedere il rovescio della medaglia. Lui vi ha fatto vedere dei container che si chiamano OCCS, ora col container cloud service, e noi ne vedremo altri, ma li vediamo proprio alla fine di una storia che ora raccontiamo. Vediamo come sviluppare in maniera veloce un'applicazione e se, per esempio, io non mi voglio preoccupare di cose complicate come le reti o non conosco i comandi per generare un container Docker, come averlo a disposizione in maniera veramente semplice. Così, velocemente, due parole su di me, chi sono, visto che siamo qua e vi parlo per 20 minuti, corro dalla mattina alla sera, faccio gare, e sono sempre stanco per riposarmi tra una gara e l'altra, vado a lavorare. Il lavoro, ho fondato K-Tech nel lontano 96, poi sono stato in Bea, sono stato acquisito e ora sono in Oracle. Se vi interessa, tutta la presentazione che faccio oggi la trovate sul mio blog, ed è in maniera molto più approfondita, io farò vedere delle cose, lì sono fatte in maniera più seria. Iniziamo, è un racconto, sono cose che conoscete tutti, però cerchiamo di fare un finale a sorpresa a questo racconto. Conoscete queste icone, questi prodotti? Sì, no? Non li abbiamo mai visti? Boh. Questi, se andate a cercarli su internet, li trovate tutti, sono molto usati, sono molto comuni e hanno tutti una caratteristica in comune, tutti quanti, ce ne sono molti di più di questi. Qual è la caratteristica in comune che hanno? La caratteristica in comune che hanno è la possibilità di fare uno Uber jar, che non è un jar che va sui taxi Uber, ma è un jar autoconsistente, cioè la possibilità di generare un qualche cosa che se io faccio Java meno jar di quel jar che ho fatto, mi funziona. Che cosa mi funziona? Quei prodotti che avevo prima. Per esempio, se li andiamo a vedere, non so se voi, vabbè, Tomcat lo conoscete, e oggi vediamo Tomcat Embedded, però per esempio, molto carino, è Paiara, che è un application server, che già implementa il microprofile che uscirà nella Java Enterprise Edition 8, e il Paiara micro pesa un mega, quindi sono cose interessanti. Che cosa si può fare? Con dei comandi Maven, che tutti quanti supportano, con dei plugin che tutti possono installare, si possono fare dei file XML, che sono quelli che daremo a Maven, e con dei semplici comandi, ottenere dei jar, su cui posso deployarci dentro qualche cosa, metterli, oppure rannarli, cioè mandarli in esercizio. Ovviamente, se io faccio una cosa del genere, non ho nulla installato nella mia macchina. Io non ho un Tomcat, un application server, non ho niente, ho soltanto una collezione. Io, per esempio, ho una collezione di XML, dei POM XML, già ben costruiti, e poi devo semplicemente sapere quali sono i comandi Maven da lanciare. Quindi, che devo fare? Se voglio utilizzare prodotti di quel genere, perché stiamo parlando di quei prodotti? Perché, ovviamente, se io riesco a fare un micro jar autoconsistente, che si autostarta e fa tutto quello che deve fare, mi viene comodo metterlo, per esempio, dentro un container piccolo, e fare microservizi. Questo, per esempio, è un comando che da zero genera un'applicazione web su Maven. Questo è quello che compila, questo è quello che genera il package. Il risultato finale, io ho un jar, tipo questo qua, che vedremo, di cui posso fare un java-jar. Per poter fare un java-jar, vuol dire che devo avere un manifest, e dentro il manifest ci deve essere qual è il main che lancia. Quindi, qual è l'unica cosa che devo scrivere? Un main. Come lo scrivo questo main? Eccolo. Questo è il main che si scrive per startare Tomcat Embedded. Quindi, con quattro comandi, mi genera il jar, c'ho Tomcat dentro, e ho a disposizione delle novità del JDK 8 che posso sfruttare, per far sì che nel mio progetto vada a scrivere dentro la directory Java questo main, ho finito. la caratteristica è che svilupperò un'applicazione in locale e ovviamente poi la voglio mettere in un container nel cloud. Ci sono sempre dei problemi quando si sviluppa in locale e poi si porta qualche cosa in cloud. Gli indirizzi sono diversi, le porte sono diverse, eccetera, eccetera. Con chiamate di questo genere posso dire, vatti a vedere se esistono queste proprietà, prenditi i valori, altrimenti assegnagli un valore di default. Se la stessa cosa la metto nel cloud e qualcuno nel cloud ha la possibilità di settare delle variabili, funziona uguale, senza che io vada a cambiare il codice. Iniziamo quindi a vedere quello che abbiamo detto, velocemente. Io qui dentro ho un pom.xml e una directory. Dentro quella directory non ho altro che un main, una jsp, stupida. Questo è il main che avete visto prima e questo è il mio pom.xml. Quindi altro non ho che quali sono i pezzi che mi interessano di com.cat da mettere dentro e come lo deve costruire. Prima di fare questo, Gabriele, vieni, dobbiamo farci la fotografia. Facciamo una bella fotografia che ce la mettiamo online, tanto per far vedere che effettivamente sorridere, due, uno, yeah, eccola qua. La salviamo. Eccoci qua. la rinominiamo pirla.code da codemotion, copy e l'andiamo a mettere dentro la directory src main. Dentro il java c'è il mio main già fatto che non vado a toccare, tanto sempre quello è inutile che lo vado e vado dentro web app dove al momento cancelliamo quella vecchia mettiamo quella nuova. Fatto. A questo punto faccio un bel maven clean compile lui macina, pensa, fa qualche cosa, dopodiché gli facciamo un bel maven package e se tutto va bene io da zero avendo un pom e una gsp ho generato il mio uberjar. Lo sta generando velocissimo però io non avevo niente. facciamo un anticipo quindi ora lui mi ha creato una directory target che prima non c'era dentro la directory target mi ci ha messo il mio jarone e quindi siccome dentro c'è il main il manifesto l'ha fatto io posso fare un jar sì posso fare un java meno jar di questo coso qua l'ha lanciato sulla porta 8080 andiamo a vedere se è vero localhost 8080 eccoci qua hello codemotion e siamo noi bello facile vabbè lo sapevamo fare tutti no? un embed un tomcat embed è documentato si fa un pom si lanciano due comandi ho lanciato l'applicazione però ora io questo jar lo voglio mettere in cloud cosa devo fare? ritorniamo alle slide no? bello ok funziona in cloud ma cosa devo fare funziona in locale ma cosa devo fare per portarlo in cloud? è una chiacchierata quindi sono scritte così all'acqua di rosa devo creare un container nel cloud devo imparare come accederci a sto container no? perché dovrò andarci dentro magari installare qualche cosa configurare configurarlo ci devo installare un jdk perché ci ho fatto un'applicazione con java impostare delle variabili ambientali se no poi non mi funziona la porta eccetera caricare l'applicazione e farla partire impostare un indirizzo pubblico se no cosa vado a chiamare magari metterci un bilanciatore perché mettiamo che non è questa cavolata che ho scritto ma era un'applicazione importante la voglio mettere come microservizio e ci arrivavano tonnellate di richieste e quindi se arrivano tonnellate di richieste voglio avere anche la possibilità di scalare avere n mila nodi secondo voi quanto è complicata questa operazione? un click cosa si deve fare? no la faccio dopo la danno prima ve lo faccio vedere ah no perché sono andato all'indietro ecco perché non mi ritornavo si va su questo indirizzo dove tra poco andiamo live appare i container come dico io scusatemi i termini per spastici per chi non è capace ma in realtà non è così nel senso i container per io voglio un bottone mi devi dare un container non mi voglio preoccupare di metterci le reti voglio un bottone voglio un container no? che cosa devo fare? clicco il bottone crea applicazione mi si apre questa finestra ad oggi supportiamo questi tre tipi di container java node.js php domani perché a giorni sta uscendo anche python e ruby poi ne usciranno altri c'è un catalogo previsto in roadmap di questi tipi di container se scelgo java mi si apre questa complicatissima finestra questa complicatissima finestra dice ma che nome gli vuoi dare all'applicazione mi dici qual è il file che devo caricare vuoi metterci un commento? basta clicco create e come vedremo ho tutto a disposizione in secondi in minuti l'unica cosa che ovviamente devo fare è che non posso caricare quel jar ma devo caricare uno zip perché? perché dentro lo zip c'è il jar e un manifest json dentro il manifest json devo solo dire qual è il comando che quel container deve eseguire per lanciare il jar niente di più semplice dopodiché mi appare questa finestra che mi dice guarda questo è il tuo indirizzo pubblico ci cliccheremo e mi funzionerà di default mi dà un'istanza quella che nella prima finestra diceva quante istanze ho quante memoria se no gli dico guarda dammi n milanodi e dammi tanta ram e update e lui me lo va in più vedremo che ho delle finestre che mi dicono service binding vado dentro e mi fa tutto il set delle variabili ambientali di default la porta la setta sempre lui gli dà lui un indirizzo se voglio scusate se voglio lo posso cambiare se no in automatico fa il binding verso tutto il mondo di siccome questo è un servizio oracle cloud tutto ciò che c'è di oracle in cloud lui lo vede quindi se avete un'istanza database cible crm ambrabaci ccc vi fa il binding di tutte le variabili sotto c'è anche un'altra colonna che vi dice se sono usciti degli update di java o del motore che sta utilizzando e ve lo fa lui a caldo senza dare di servizio allora siamo arrivati a vediamolo prima di vederlo devo però generare lo zip quindi questa è la mia finestra dove c'è soltanto il manifest dentro ci vado a mettere il file che abbiamo appena generato lo uberjar zippo tutto quindi faccio un berjar cvf demo punto zip asterisco eccolo qui l'ho fatto quindi vado vado questa è l'applicazione con un'altra foto di backup se qualche cosa non funziona ci serve sempre piano B questa invece è una demo che avevo fatto e usa node.js e usa il nostro framework open source guardatelo carino su google jet trovate tutta la documentazione è per fare interfacce grafiche carine con nuovi ambienti di sviluppo basati su node.js per esempio quindi clicco il bottone create application un attimo che ecco c'era refresh create application mi si apre quella finestra gli dico che voglio un contenitore di tipo java mi si apre quest'altra finestra gli dico che si chiama cod cod fab cod fab gli dico che deve fare l'upload di un archive choose io vado a prendere il demo zip che ho appena creato vado a cercare il bottone alla fine create eccolo qua clicco create ora lui farà due operazioni prima fa l'upload del file questione di eccolo qui ho fatto l'upload del file e ora qui sotto ci farà vedere che sta creando il container e dopodiché ci deploy all'applicazione e l'andiamo a provare questo processo a seconda se fuori fa caldo fa freddo può variare da un minuto a tre minuti ora vediamo quanto ci mette però insomma è sempre questione di pochi minuti ecco ha già fatto la urla che vedrete alla fine sarà una urla pubblica lo potete provare ed è realtà quindi che cosa abbiamo visto e che cosa stiamo vedendo abbiamo visto come da un lato negli ultimi anni la tecnologia ci è venuta incontro dandoci la possibilità di creare con semplici comandi delle applicazioni veloci e minimali tra l'altro visto che sta per uscire anche il GDK9 che consente ora sempre più facilmente di fare a microservizi nativi Java su magari una Java Virtual Machine che voi non lo sapete ma è già multitenant il GDK8 la tendenza è proprio quella di sfruttare tutti questi tool per fare queste piccole cose e portarle in cloud su ambienti performanti scalabili veloci eccetera eccetera qui abbiamo già il bilanciatore se io passo da un nodo a mille nodi c'è sempre il bilanciatore davanti ci pensa lui la rete fra quei nodi me la gestisce lui il binding verso i sistemi remoti ora qui non c'è potevo agganciarci nella demo che faccio io documentata sul mio blog c'è agganciato il database anche di Oracle quindi l'embedded Tomcat apre un pool di connessioni lo porto nel cloud e va sul database di Oracle sempre in cloud con un click di mouse perché alla fine abbiamo fatto veramente un click di mouse se mentre finisce di pensarci avete delle domande intanto le facciamo così ecco credo che ha finito eccolo qui quindi questo è l'indirizzo pubblico e questa è l'applicazione che abbiamo fatto potete provarlo è reale quindi avete visto realmente dal vivo i tempi di attesa e tutto quello che c'era da fare per mettere un'applicazione difficilissima basata su Tomcat embedded nel cloud ripeto abbiamo questo è un indirizzo che punta un bilanciatore posso scalare le istanze posso dire qua ho cliccato troppo con il bottone posso dire quanta memoria voglio dargli posso questo è il service binding ecco se ci clicco gli dico no cancel non voglio tutta sta roba cancel questo mi fa vedere show tutte le variabili mi dice che queste le aveva settate lui di default le posso modificare se no se faccio add mi parte tutta l'introspezione sui sistemi che c'è mi dice tutti i sistemi quindi se c'era un database mi fa vedere lui come connettermi quali erano le porte la urla eccetera eccetera la porta come variabile ambientale quindi se io in locale puntavo un database e poi lo porto là mi frega devo sempre usare la variabile ambientale quella parte di amministrazione mi dice se ci sono delle patch disponibili per esempio se andiamo sul menu principale vedete che demojet mi dice che ci sono delle patch disponibili mi avvisa quindi io posso andare lì cliccarci faccio e lui mi fa l'aggiornamento ho un nodo solo darò un po' di servizio ho più nodi non do di servizio se torniamo alle slide ci tenevo a dire che non abbiamo maltrattato hardware per generare questa demo due indirizzi importanti se siete sviluppatori andate a vedere developer.oracle.com uno perché oracle finalmente ha deciso di seguire in maniera più vicina agli sviluppatori da quest'anno sono iniziati degli eventi europei purtroppo in Italia non arriva però se andate a vedere c'è una serie di appuntamenti in Europa molto importanti dedicati solo agli sviluppatori quindi dove si entra Nmila workshop si prova si fa eccetera eccetera il sito vi dà tutti gli annunci sui tool di sviluppo in locale nel cloud che ci sono a disposizione come usarli e vi linka molti blog tecnici qualsiasi cosa ci sia di interessante lì sopra la potete provare andate sul cloud su questo indirizzo chiedete un trial che può essere di un mese o 300 dollari a seconda di quello che chiedete i 300 dollari ve li regala lui e ve li scala in base a quello che fate ma potete provare qualsiasi cosa ci sia a disposizione nel cloud guarda 18 minuti noi siamo a disposizione nel banchetto e se avete domande proprio su javascript lui è la persona grazie e buon pranzo